Ciao, sono Andrea. Oggi vi parlo di SuperDryer, il nostro panno in microfibra ultra assorbente, perfetto per un'asciugatura rapida, super sicura, senza loni o striature. Vediamo insieme come utilizzarlo. Abbiamo visto le sue straordinarie performance e ora vediamo qualche consiglio per utilizzarlo ancora meglio. Vi consiglio di iniziare l'asciugatura della vettura dai vetri. Utilizzando questo lato del panno, quello con la microfibra a pelo più corto, e sfruttando il fatto che il panno è ancora usciutto, otterremo in pochissimo tempo un'asciugatura dei vetri perfetta e senza loni. Successivamente possiamo passare all'asciugatura della carrozzeria con questo lato del panno. Vedete? La microfibra a pelo lungo è super assorbente per un'asciugatura rapida anche della carrozzeria. Come vedete, il bordo è ricoperto e non presenta cuciture esposte, per scongiurare possibili graffi durante l'utilizzo. Se è stato effettuato un corretto lavaggio e il panno è stato lavato correttamente, otterrete un'asciugatura perfetta, senza nessun olone. Una volta asciugati i vetri e la carrozzeria vi consiglio di ripiegare il panno, in questo modo, e utilizzarlo per la rifinitura dei dettagli. Vediamolo insieme. Se avete bisogno di rifinire delle colature o asciugare dettagli, come la parte bassa degli specchi o l'interno delle maglie delle portiere, potete ripiegarlo ulteriormente e utilizzarlo in questo modo. Al termine dell'utilizzo vi consigliamo di non far semplicemente asciugare il panno, magari stendendolo all'aperto, ma di andare a effettuare un lavaggio con un detergente specifico per la cura e il mantenimento della microfibra. Microfiber Wash, il nostro detergente specifico per la cura e il mantenimento delle microfibre, fa al caso vostro. Basta pochissimo prodotto, circa 15 ml per chilo, per una pulizia efficace ed accurata, che saprà mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di tutti i vostri panni in microfibra, sia che lo utilizziate con un lavaggio manuale che in lavatrice. Mi raccomando però, non utilizzate ammorbidente. Questo andrebbe a rivestire le fibre appesantendole e andando a far decadere le performance della microfibra. Dopo il lavaggio del panno e terminata la sua asciugatura, che si può fare o in asciugatrice o in un luogo coperto e privo di polveri, possiamo andare a ripiegare nuovamente il panno, utilizzare la sua confezione, che come vedete ha una pratica chiusura superiore. Andiamo a ripiegare il panno in tre parti e lo possiamo nuovamente riporre in confezione. E procedete chiudendo nuovamente la confezione in modo che non entri polvere e che sia pronto per la prossima asciugatura. Ed infine alcune domande che magari vi siete posti guardando questo video o utilizzando il panno. Il panno può essere utilizzato anche per la pulizia degli interni, plastiche, il cruscotto, i vetri interni. No, perché è un panno specifico per l'asciugatura, non per la pulizia. Esistono infatti dei panni specifici per la pulizia degli interni, che facilitano il lavoro di pulizia e rimozione dello sporco. Rispetto invece al nostro panno super dryer, che è stato invece sviluppato per l'asciugatura della parte esterna della vettura. Come posso lavare il panno senza danneggiarlo? Abbiamo visto che è molto importante lavare il panno dopo ogni utilizzo, per mantenere le sue performance nel tempo. Il nostro consiglio è quello di utilizzare microfiber wash. Abbiamo visto insieme quanto prodotto utilizzare, i consigli per lavarlo, asciugarlo e riporlo nel migliore dei modi. Ma i panni in microfibra graffiano la vernice metallizzata? Il nostro panno è stato studiato per non graffiare nessun tipo di vernice, comprese le più delicate, come le vernici monostrato. In fase di rifinitura post lavaggio, vi consigliamo, per una rapida asciugatura ed una finitura perfetta, di aiutarvi con un quick detailer, per eliminare eventuali colature d'acqua, ad esempio, da maniglie o specchietti e minimizzare il rischio della formazione di calcare. Devo bagnarlo prima dell'uso? Distinguiamo, non è una pelle di daino sintetica, quindi non devo bagnarla per poter utilizzare la sua azione assorbente. Però, prima del suo primo utilizzo, devo effettuare un lavaggio, perché la microfibra è a pelo lungo, non spazzolata. Quindi, per ottenere sempre prestazioni ottimali, vi consigliamo, prima del suo primo utilizzo, di effettuare un lavaggio. Poi, come abbiamo visto, dopo ogni utilizzo, prendetevene cura facendo un accurato lavaggio, facendolo asciugare in un luogo protetto o con asciugatrice e riponendolo nella sua confezione, pronto per il prossimo utilizzo. Grazie per averci visto, continuate a seguirci sui nostri canali social per altri video e consigli. Ciao, da Andrea.